Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio Onnipotente ed Eterno, che a San Daniele e ai Suoi compagni martiri, hai dato la gloria di immolarsi per il Cristo. Vieni in aiuto alla nostra umana debolezza, perché possiamo essere saldi nella fede, come essi furono eroici nel dare la vita per te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Daniele e compagni. Pregate per noi.